Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta soffice cioccolato fondente ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono ricotta, cioccolato fondente, zucchero, uova, farina di tipo 00, vanillina, scorza d'arancia, cacao amaro e lievito. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Mettiamolo da parte, senza lavare il boccale. Mettiamo lo zucchero, la scorza d'arancia, e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo le uova, e li facciamo montare per 10 minuti a velocità 4. aggiungiamo la ricotta ed amalgamare per un minuto a velocità 4. togliamo la farfalla, aggiungiamo la farina, il cioccolato tritato, il cacao, la vanillina, e il lievito. facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. trasferire il composto in una tortiera del diametro di 24 centimetri ben imburrata. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta soffice, cioccolato fondente e ricotta. grazie e alla prossima ricetta per la prossima ricetta